Nei Cinque Stelle Di Maio interviene sulle presidenze delle Camere sottolineando che si cercano intese che non riguardano il futuro governo. Virginia Lozito. Siamo impegnati in un importante dialogo con tutte le forze politiche. In visita al Cosmo Prof di Bologna Luigi Di Maio torna sulla partita per la presidenza delle Camere e mette subito in chiaro. Quelle che saranno le intese sulle presidenze delle Camere non riguardano assolutamente le intese sul futuro governo del Paese. Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere e dei due rami del Parlamento ma soprattutto abolire i vitalizi. Un privilegio odioso i vitalizi dice Di Maio che per questo spiega la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato con i loro questori e segretari sarà importante. I Cinque Stelle puntano allo scranno più alto di Montecitorio. Carelli e Fraccaro al momento i nomi che circolano e se resta in piedi per il movimento l'ipotesi di una presidenza del Senato al centro-destra il confronto resta aperto con tutte le forze politiche.